Walligol trascina il Trestina nei quartieri altissimi della classifica. I bianconeri battono 1-0 la corazzata Ponsacco con un gol di Kribeck dopo una grande prestazione e si ritrovano al quarto posto insieme a Seravezza, meno 7 dalla vetta occupata dal Ghivizzano, secondo capo esterno di fila per il Ponsacco che scivola così a meno 3 dal primo posto. Già nel primo tempo meglio il Trestina, privo di Ridolfi e Go schierato da Cerbella con un 4-3-1-2 con un cucchiararo in porta, Marconi, Fumanti, Tersini e Catacchini in difesa, Vinagli, Petrice, Gramaccia e Mediana con Stagliano alle spalle di Gallozze e Kribeck. Proprio il capitano, Vinagli è il primo a provarci dalla distanza sfiorando l'incrocio. Quando poi Kribeck si invola in fascia, Stagliano arriva con qualche istante di ritardo all'appuntamento con la deviazione vincente. Sulla panchina del Ponsacco arriva la notizia del vantaggio del Ghivizzano e della San Giovannese. Il rosso-blu però, senza Caciagli, messi in campo da Maneschi con un 3-4-1-2 con Bulgarelli in porta, Gremigni, Colombini e Mazzanti nel reparto arretrato. Tazzer, Menichetti, Castorani e Lice a centrocampo con Remorini dietro Doveri e Brega si vedono solo al 35esimo con questa punizione di Menichetti. Occhio dall'altra parte allora, ma stavolta è Gramaccia a mancare il timbro sull'imbeccata di Gallozzi. Nel finale di tempo poi il Trestina protesta per una gomitata di Gremigni a Kribeck, sulla quale sia l'assistente Fele che l'arbitro di Marco sorvolano. Si va all'intervallo sullo 0-0 e nella ripresa di Marco nega subito un rigore al Trestina per questo intervento di Gremigni su Kribeck. Il fischietto di Ciampino si rende conto subito dell'errore, tanto che dopo un minuto si limita al giallo per questo fallo di Vinagli e sull'Ici. Quello che combina Di Marco in tandem con l'assistente Fele ha del clamoroso al minuto 66 quando Gremigni perde palla. Gallozzi supera Mazzanti che lo mette giù, poi anche il portiere Bulgarelli commette fallo, ma per Di Marco e solo per lui è tutto regolare. La partita la fa il Trestina, ma il Ponsacco mette paura al settantesimo quando Lici, il migliore dei suoi, costringe Cucchiararo alla deviazione in angolo. Il Trestina però continua a premere al settantanovesimo, trova il gol quando Kribeck corona una prestazione superlativa con l'azione personale che vale l'1-0. Applausi a scena aperta e Cerbella inserisce subito Polidori per Vinagli, ammonito avanzando Catacchini in mediana. Maneschi inserisce Zorizza per Remorini e Mariani per Mazzanti passando al 4-2-3-1 e al novantesimo proprio i neoentrati sfiorano il pari. Mariani colpisce la traversa Cucchiararo e miracoloso sulla successiva ribattuta di Zorizza. E' la paratona che blinda l'1-0 e ora fa sognare il Trestina ad occhi aperti. Senza Ridolfi e Goa arriva la vittoria contro una delle squadre più forti del campionato. Il Ghivizzano è lì a più 7. Sì, senza Ridolfi e Goa, ma con Kribeck e Gallozzi, con Petricci, con il capitano, con Silvio. Questa è una squadra, è un gruppo di ottimi giocatori, di ottimi ragazzi che ce la stanno mettendo tutti. Stanno vincendo, ognuno di loro sta vincendo la propria partita per il bene del Trestina e questo si vede in campo. Abbiamo stretti denti contro una squadra che secondo me è la squadra più attrezzata del campionato. Per la prima volta siamo riusciti a battere una delle tre capoliste, perché secondo me Ghivizzano, Ponsacco e Tutto Cuoio saranno quelle che poi fino alla fine si otterranno il campionato. E il Trestina? Il Trestina deve continuare a avere questa fame, questa attenzione che ha avuto fino adesso. Però i meriti in modo particolare sicuramente sono di tutto il gruppo. È un momento positivo, ma fate comunque i complimenti anche alla squadra avversaria, perché è venuta qui, ha provato fino all'ultimo a vincere questa partita. Oggi ha trovato di fronte una squadra che ci ha creduto quanto loro e soprattutto ha lottato quanto loro in campo. Sono contento. Con un Kribeck così Ridolfi può recuperare tranquillamente. No, no, guarda, la verità Mattia è indispensabile per noi, però questa vittoria la dedichiamo anche a lui e a Cadele che sono fuori. E volevo dire una cosa, che soprattutto da queste vittorie si nota che la forza nostra è un gruppo, abbiamo un gran gruppo e sono molto contento di questa vittoria e ora ci si diverte. Dove può arrivare questo Trestina dopo una vittoria contro una corazzata come il Ponsacco? Ma guarda, io non faccio proclami o altro, dico che bisogna pensare partita dopo partita e continuare come stiamo facendo. Pensare domenica dopo domenica e dare il massimo come è stato fatto finora, perché siamo dei ragazzi impagabili, ce le alleniamo a 2.000 tutta la settimana e la forza è che chi scende in campo sappiamo che negli 11, nei 7 in panchina, nei 3 in tribuna, nei 4 a casa, chi gioca gioca, c'è la sicurezza che si fa bene. Poi si vince o si perde nel calcio, però l'importante è dare il massimo. Senti, dedica a Cadele, a Mattia e? A mia madre e a mia ragazza, che è mia madre che si è trasferita in Francia due mesi e volevo fare questa dedica e a mia ragazza che mi sta sempre vicino. Presidente Donati, è il secondo cappò di fila in trasferta, la vetta ora è a tre punti, ma la società è sempre vigile e attenda sul mercato. Sì, indubbiamente oggi abbiamo fatto una bruttissima prestazione, sia da un punto di vista di preparazione della squadra, sia da un punto di vista dei ragazzi scesi il campo. Quindi dovremmo guardarci al nostro interno. La società è vigile, la società è cosciente di aver costruito una squadra importante, per cui ognuno da qui in avanti è chiamato alle proprie responsabilità, perché non possiamo continuare su questi K.O. esterni, perché non abbiamo poi più gli spazi per poter recuperare. Il Chivizzano e tutto cuoio ora sono lì davanti, che cosa però può un sacco in più rispetto alle rivali? Ma indubbiamente in questo momento niente, perché la classifica rispecchia l'andamento, quindi avanti Chivizzano, secondo tutto cuoio, terzo noi, quindi vuol dire che noi qualche problemino lo avremmo, dovremmo guardarci al nostro interno e risolverlo velocemente, perché il tempo stringe e non vogliamo perdere ulteriori terreni. Da qui alla fine chi arriverà? Ma indubbiamente io credo che le tre squadre che oggi in questo momento... ...vano sul mercato? Ma sicuramente qualche giovane, noi abbiamo preso negri ieri l'altro, è sceso in campo gli ultimi tre minuti, quindi credo che a livello di over siamo a posto, qualche under sicuramente arriverà, forse sul mercato di gennaio da professionismo, non oggi. Ultima battuta, il Trestina che impressione le ha fatte? Ottima impressione, una squadra cattiva, una squadra determinata, è una squadra che voleva il risultato, che l'ha ottenuto, quindi bisogna fargli il massimo dei complimenti. Gregorio Mazzanto è una sconfitta che pesa, soprattutto perché il Ghivizzano è lì davanti a più tre. Sì, noi non dobbiamo guardare tanto le altre squadre, ma guardare più che altro noi stessi. Oggi abbiamo fatto una partita un pochino sotto tono, abbiamo trovato davanti una grande squadra, c'è da fare complimenti al Trestina. Secondo K.O. di fila in trasferta, però, che cos'è che non va? Ma abbiamo fatto tante partite di fila, non vorrei che fosse entrata un po' di stanchezza, però domenica c'è subito un'altra battaglia, dobbiamo reagire.